Quante volte sul canale principale abbiamo presentato delle customiso di Windows, molto belle, molto interessanti, ma tutte quante con lo stesso problema, ovvero nascono in lingua inglese. E quantunque il processo di italianizzazione sia relativamente semplice, capita che qualche membro della community si trovi in difficoltà a portarlo a termine. E a questo punto subentra il nostro caro amico Ultracorpo, che in un commento di un mese fa, devo ammetterlo, ci ho messo un pochino a presentare questo sistema, ha ideato un metodo che letteralmente con un doppio clic ci consente di italianizzare qualsiasi versione di Windows. Non ci credi? Te lo faccio vedere. E se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer! I contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Naturalmente, per mettere alla prova il sistema ideato da Ultracorpo, partiremo da un Windows completamente in lingua inglese. Fatto questo, cosa faremo? Come sempre, andremo ad aprire il nostro browser e nel motore di ricerca digiteremo Gentiluomo Digitale. Effettuiamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito e portiamoci immediatamente qui in alto nella sezione che si chiama Downloads. Una volta aperta la pagina, scendiamo in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama Italianizzazione automatica. Nel caso in cui, per qualche motivo, non dovessi riuscire a trovare questo o qualsiasi altro download, niente paura. Ti basterà andare qui in alto sulla lente di ingrandimento, cliccarci su e digitare il nome o anche una parte del nome del software che stai cercando. In questo caso proviamo con Italianizzazione. Premi Invio per effettuare la ricerca e vedrai che ti comparirà il relativo software. Ti basterà fare un clic sul nome per andare a scaricarlo. Ovviamente il file è minuscolo, sono solo 553 byte e a questo punto clicchiamo su questo pulsante qui per andare ad aprire la nostra cartella dei download e potremo chiudere la finestra del browser retrostante che non ci serve più. Adesso facciamo un doppio clic sul file che abbiamo appena scaricato, quello che si chiama Italianizzazione meno automatic.zip e una volta aperto trasciniamo il suo contenuto sul nostro desktop. A questo punto potremo chiudere la cartella compressa di cui non abbiamo più bisogno e andare sul file che abbiamo appena trascinato sul desktop facendo un clic con il pulsante destro del mouse. Ora sceglieremo la voce Run with PowerShell, dopodiché cliccheremo sul pulsante Open per andare ad eseguirlo. Vedrai che ci si presenterà una schermata come questa. La voce che ci interessa è questa qui con la R, Run once. Clicchiamo quindi la R sulla nostra tastiera seguita dal pulsante invio. Confermiamo con sì di voler eseguire questo programma e al security warning che ci si aprirà premeremo nuovamente la lettera R. Confermiamo con invio e partirà l'installazione della lingua italiana. Come vedi nel mio caso l'operazione è durata pochi secondi ma attenzione in altre circostanze potrebbe essere più lunga e veniamo invitati a premere il tasto invio per uscire. Premiamo invio sulla nostra tastiera, la schermata si chiude ma attenzione perché non abbiamo terminato. Ma tranquillo tutto ciò che dovremo fare a questo punto sarà un banalissimo riavvio del nostro sistema. Clicchiamo quindi su Start, clicchiamo sul pulsante Power e andiamo ad effettuare il nostro Restart. Ci vediamo tra un attimo. Ed ecco fatto! Siamo rientrati nel nostro Windows e tutto ciò che ci resta da fare non è che una banalissima prova del 9. Già vediamo che tutto quanto è diventato in lingua italiana, ivi ricompresa la voce impostazioni. Un'ulteriore conferma l'abbiamo portandoci su data, ora e lingua e successivamente su lingua e area geografica dove potremo controllare che sia impostato l'italiano in ogni singola voce. Tutto qui. Come vedi l'operazione è stata semplicissima e a questo punto non possiamo che passare ai ringraziamenti del giorno. Che quest'oggi guarda caso sono tutti per te che hai guardato questo video, mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!